Siamo in Piazza Italia, a Pontremoli, per la quarta edizione di Una giornata in sicurezza. Una manifestazione che sta riscuotendo negli anni grande successo, fortemente voluta dall'amministrazione comunale, perché ha l'obiettivo di riunire in campo, come vedete attorno a me e alle mie spalle, tantissime forze dell'ordine e associazioni di volontariato, che hanno tutte lo scopo di tutelare i cittadini. Quindi dall'età più piccola, quindi dai nostri bambini, fino ad arrivare agli adulti, l'obiettivo è quello di far capire che non si deve avere paura di una divisa, ma anzi capire che sono nostre amiche e che ci possono aiutare nel momento del bisogno. Quindi oggi hanno messo in campo tantissime simulazioni che stanno ancora succedendo per far capire la loro attività quotidiana e per sensibilizzare l'intera collettività al rispetto delle regole e alla sicurezza, tema così importante e fondamentale, con soprattutto le piaghe sempre più pesanti dell'alcol e della droga.